Quello che studiamo è anche l'Elui Nishpah di Itamar Ben Shulamit. Bezrat Hashem, che mamma, come dicevo adesso, che siamo andati a casa a vedere, come si dice, questo amico che è mancato, il figlio più grande ha dieci anni, e vedere, undici anni, perdone, e vedere il bambino di undici e quello di sette che dicono il Kaddish è proprio da piangere. Mamma c'è da piangere. Adesso non voglio dire quali sono i piani di Akadosh Burhu. Proviamo a vedere che mamma è connesso con un po' Parashatashavua, scusate che io sono venuto da fuori, c'è un freddo. In Parashatashavua c'è scritto Vehele Mishpatim Asherta Simlif Nehem. In italiano vuol dire Vehele Mishpatim, vuol dire questi o quelli, sono i Mishpatim, credo che li traducono in italiano gli statuti. Giusto? E questi sono gli statuti Asherta Simlif Nehem, vuol dire che devi mettere davanti a loro. Questo è quello che dice il Kaddish Burhu a Moshe Rabbenu. Vehele Mishpatim Asherta Simlif Nehem. Questa settimana in questa Parashat, sai ci sono quei libri che ti insegnano ogni Parashat, ti dicono che Mitzvot ci sono nella Parashat. Allora tutti da Bereshi ti iniziano a dire guarda quest'anno faccio per ogni Parashat, mi studio tutte le Mitzvot che c'è in ogni Parashat. Fin quando arrivi a Mishpatim, perché Mishpatim è piena. Baruch Hashem Mishpatim è proprio la prima Parashat che è proprio piena di Mitzvot. Ne hai di tutti. Infatti appunto sono gli statuti, ce ne dicono uno dopo l'altro, dagli statuti. Sono tante regole alla Chot che ci devono aiutare sia a comportarci meglio con la Kadosh Burhu, con Dio, però ci aiutano a comportarci meglio uno con l'altro. Ci sono regole nella Parashat che ci insegnano cosa succede se una persona è danneggiata in diversi modi o in diversi casi. Se il suo toro è uscito, oggi un ragazzo sta studiando la Mishpatim, c'è il Shormu Ado, un toro che ha fatto del male a qualcuno per più di tre volte. Cioè ci sono delle regole che si occupano sui tuoi beni, se i tuoi beni danneggiano i beni di qualcun altro oppure danneggiano un'altra persona. Oppure ci sono una marea di Allah Chot, anche questa Parashat, che parlano di tenere, come si dice, occuparsi appunto delle donne che non hanno il marito, dei bambini che non hanno i genitori, piuttosto che una persona che uccide Besho Gheg, vuol dire che ha ucciso non apposta, giusto? Vediamo che la Torah ci dice una marea di mitzvot, che abbiamo detto diverse volte che la parola mitzvah viene dalla parola etzah, etzah vuol dire consigli. In pratica Kadosh Baruch Hu ci riempie in questa Parashat di consigli, che capiamo come possiamo comportarci meglio, uno con l'altro e noi verso Kadosh Baruch Hu. E in tutti questi consigli che ci dà Kadosh Baruch Hu, in pratica noi riconosciamo la volontà di Kadosh Baruch Hu. Cosa vuol dire? Che in ogni cosa che la Torah ci insegna, noi vediamo la volontà. Perché se io ti chiedo, guarda, mi fai sto favore, guarda, mi piace che la mattina ti alzi e fai così, cosa? Ovviamente vuol dire che è la mia volontà. Abbiamo detto diverse volte che il kavod di una persona è la sua volontà. Come non so se vi ricordate, abbiamo parlato una volta di Rabbi Ishmael, che sua madre voleva, lui era così tzaddika, era il Qwengadol, era il Qwengadol e sua madre chiedeva sempre a Rabbi Ishmael di dargli, credo sia il Kenner, a Rabbi Ishmael, gli credeva di dare l'acqua con cui lui si lavava i piedi, gli chiedeva di dargli l'acqua. Gli chiedeva di dare l'acqua perché lei voleva bere l'acqua con cui lui si lavava i piedi. Gli chiedeva, mamma, dai, ti do l'acqua con cui mi faccio la Nettilat, neanche la Nettilat Yadaim, la Nettilat Raglaim, neanche la Nettilat delle mani, la Nettilat come mi lavo i piedi, ma non lo faccio. Fin quando un giorno sono arrivati i Chachamim e hanno chiamato Rabbi Ishmael e gli hanno detto, ma tu non fai cavo da tua madre. Ho detto, come non faccio cavo da mia madre? Era Kohen Gadol, vuol dire che era lo Tzaddik che entrava dentro il Kodesh Kodashim, vuol dire che nel Santo dei Santi, nel posto più sacro che c'è, entrava a Kippur, nel giorno più santo veniva a espiare tutti i peccati, e Pito, i Rabbanim, che erano a Yerushalayim, ai tempi, gli hanno detto, non fai abbastanza onore a tua madre. E lui gli ha spiegato, sì, ma mia madre non faccio onore, mia madre mi chiede di dargli l'acqua con cui mi lavo i piedi da bere. Non voglio fare, che onore è, li faccio così, questo non è onore, è umiliarla. E i Rabbanim gli hanno detto, no, non esiste una cosa del genere. Il Kavod di una persona vuol dire l'onore di una persona quando fai la sua volontà. Lei vuol bere l'acqua con cui ti lavi i piedi? Tu gli devi fare Kavod e dargli l'acqua con cui ti lavi i piedi. Poi lei la beve, la mangia, ci cucina la pasta? Non è un tuo problema, questo è il suo volere. Tu devi fare quello che vuole tua madre. Questo vuol dire fare Kavod. Allora vediamo che ogni volta che noi facciamo tutte le azioni, i precetti che Kavod ci chiede, in pratica facciamo Kavod, ogni volta che rispetti Shabbat, ogni volta che trovi qualcosa per strada e la ridai al proprietario, anche una mitzvah che è scritta nella parashah che devi ridare, che devi ridare un oggetto che hai trovato. E anche lì ci sono fior di pagine, Bahu Hashemi, Bab Mezzia, pagina Kaf Bet, Hamud Bet, poi se mi ricordo una storia ve la ricordo, ma per dirvi, per ogni piccolo dettaglio che è scritto in questa parashah ci sono pagine e regole su regole. Perché così tante regole? Perché Kavod Shborku ci vuole insegnare qual è la sua volontà. E perché, come si dice, vediamo appunto che ci sono casi anche in cui una persona rompe le cose di un altro, ci sono casi, abbiamo detto, dove una persona uccide involontariamente un'altra persona. Sono tutti casi un po', non tutti, però ci sono dei casi che sono anche, uno dice ma perché Kavod Shborku ha fatto che succeda una cosa del genere? Perché Kavod Shborku? Perché Dio fa così che ognuno di noi passa una marea di esperienze negative anche, possiamo chiamarle negative, cioè al nostro punto di vista una persona che non ha emunah vede tutte queste cose che gli succedono, che uno muore involontariamente, piuttosto che uno spacca la casa di un altro, brucia, tutte cose che succedono, che possono succedere, noi ogni volta le vediamo e diciamo come mai Kavod Shborku ci ha dovuto dare delle regole per delle occasioni del genere? Perché Bichlale fa succedere delle cose del genere? Come mai ogni volta dobbiamo passare esperienze del genere? Perché abbiamo continuamente bisogno di passare queste situazioni di continuo? Ogni persona che vedi dice, è raro trovare una persona che dice come stai, tutto benissimo, no? Ognuno ha sempre la borsettina di problemi che sta superando ogni giorno. Rabbè lo scrive nella Torah numero 187, qui vuole vedere la kuf pei zain, vuol dire il 187 in Likutei Moharan, vuol dire nel primo libro. In breve, poi magari la vediamo, adesso la rivediamo, però c'è scritto, la Pinachman prende un verso nei Teilim, che il verso nei Teilim dice, che ulecha Hashem chesed, che ulecha Hashem chesed, vuol dire, che atta tessalem le ish, che maaseu. Nei Teilim, qui lo vuole vedere, qua Rabbè lo scrive che il numero 62 è del verso numero 13, è l'ultimo verso del Salmo, il Salmo numero 62, il verso numero 13, è l'ultimo verso. Cosa dice? Ulecha Hashem chesed, che atta tessalem le ish, che maaseu. Vuol dire, la traduzione letteraria, vuol dire, tuo, o Signore, tua, o Signore, è la misericordia, il chesed, poiché tu ricompensi ogni uomo secondo le sue azioni. Ok? Quindi vuol dire che la Kadosh Baruch Hu, in pratica, Davida Melech nei Teilim, il re Davide nei Salmi, in pratica sta glorificando la Kadosh Baruch Hu, perché in pratica dice che la Kadosh Baruch Hu è il proprietario della misericordia, ok? E ricompensi ogni uomo secondo le sue azioni. Cioè, l'esplicitazione della misericordia è che la Kadosh Baruch Hu ricompensa ogni persona secondo le sue azioni. D'accordo? Vediamo, poi la Torah magari la vediamo per intero, perché è bellissimo, Rabbin Ahman dice che in pratica, kolaynyan, come si dice, del, del, come si dice, lo vediamo come si dice, dice che in pratica, Kadosh Baruch Hu usa un chesed enorme, dice Rabbin Ahman, vuol dire che usa una misericordia enorme, ok? Quando ripaga una persona facendo mi dà che neged mi dà, che non so se qualcuno può aiutare in italiano come si può tradurre mi dà che neged mi dà, vuol dire tipo ripagarti, mi dà che neged mi dà. Misura contro misura, misura contro misura. Misura contro misura, in pratica vuol dire che Rabbin Ahman spiega che a Kadosh Baruch Hu, quando ti ripaga in pratica con la stessa moneta, come diceva Lorella, che è misura contro misura, vuol dire come ti sei comportato, lui ti ripaga. E tra l'altro è una delle cose importanti da insegnare ai bambini, veramente, che a Kadosh Baruch Hu ripaga sempre una persona con la stessa moneta con cui una persona si è comportata. Rabbin Ahman scrive in questa Torah che a Kadosh Baruch Hu usa una misericordia enorme ripagandoti con la stessa moneta, come ti comporti, ok? Perché? Perché in questo modo, spiegherà bene, una persona può capire e diventare consapevole di cosa aggiustare, di cosa mettere a posto per fare chuva, quindi zeikar è la cosa più importante, arrivare a fare chuva, vuol dire a eliminare tutti i peccati. E quindi a grandi linee diciamo che se ti arriva una mazzata sui soldi, per esempio, vuol dire che veramente nell'ultimo periodo magari pensavi solo ai soldi. Piton, vedi quelli che tutto il giorno corrono dietro ai soldi, Piton, ma quello ha, mi hanno bloccato i soldi lì, mi hanno preso quello di lì, perché tutto il giorno pensavi ai danè, ai danè, come si dice in Puglia, no? Pensavi tutto il giorno ai danè. Quindi a Kadosh Baruch Hu ci manda delle prove, proprio su quella cosa lì, proprio sui soldi, per esempio. Stessa cosa può essere con Avat Israel, con l'amore per il prossimo, oppure chi ha altre intenzioni, c'era una persona, mi ricordo, che ogni volta che gli parlavo cercava di giustificare i combini che faceva, faceva tutti dei combini di soldi, e ogni volta mi dice, ah ma si può far così? Vediamo, sai, tutte le cose quelle subito, molto sul filo del rasoio, se si può o non si può, e molte volte sono dall'altra parte, mamma. Ogni volta come si dice, ah, posso fregare quelli così, non mi diceva fregare direttamente, però faceva tutte cose che andavano a fregare gli altri, n'accordo? E lui di sé non si fidava mai di nessuno. Perché? Perché lui era il primo che era un ladro. Perché non si fidava negli altri? Perché era il primo ladro. E questa persona è stata derubata in tutti i modi possibili. È stato truffato da persone che conosceva bene, è stato truffato da degli amici, da dei parenti. Di notte o di giorno gli sono entrati i ladri in casa. Le ha avute di tutti i colori, n'accordo? Lasciava una persona, quando gli parlavo a questa persona qua, gli diceva, oh, smettila di pensare che tutti rubano. Lui, come si dice, era come un muro. Perché se hai a tikun ce l'ho, vuol dire che ogni volta gli rubavano perché volevano fargli vedere a lui quanto era ladro. Ogni volta che gli parlavi nulla, era come un muro, n'accordo? Che con l'Aignan, con l'Aignan ogni persona viene a fare il tikun proprio della cosa che gli è più difficile. La cosa che gli è più difficile da capire. Sto leggendo questo libro qua della Rizal, che parla Shara Gilgulim, che parla delle rincarnazioni, mamash, delle persone vengono soltanto a mettere a posto una determinata cosa. Può essere che vengono a fare il Gilgul, aggiustare soltanto una parte dell'anima. Addirittura ci scrive la Rizal che i Gerim, chi ha fatto la conversione, quando fa la conversione, il giorno della conversione, entrano in lui delle anime, dei livelli di anime, di persone che non possono venire a rincarnarsi. Allora entrano la Nefesh e la Neshamah, vuol dire i livelli più elevati di certe persone, entrano nei Gerim. Mamash. Vediamo che con l'Aignan addirittura dice che vengono qua soltanto per aggiustare determinate cose. Ed è la cosa che gli è più difficile. Come fai a sapere le cose che devi giustificare? Vedi dalle cose che ti succedono, devi sempre cercare di vedere. Come dice Rabbenu, quando vai a parlare con la Kadoshu, vedere, ah mi è successo questo? Come mai mi è successo questo? Ah proprio questa, proprio ho beccato una mazzata sui soldi? Ah forse nell'ultimo momento ero con i soldi, la fronte fa male qualche parte del corpo? Il Rambam collega tutte le mitzvot alle parti del corpo? Io non le so, quindi mi dispiace, non posso aiutarsi, ti fa male la gamba, ma qual è il problema? Non lo so. Il Rambam collega le mitzvot alle parti del corpo. Ogni volta che pecchi, va a colpire una parte del corpo, proprio un organo o un altro organo, proprio così. Facendo chuva, togli le averot dalle parti del corpo. A questo perché, a priori, ogni volta, non so se abbiamo chiesto una volta, però è buono ripetere, abbiamo detto, come mai Bichlal a priori che abbiamo il dolore? Perché ha creato il dolore? Perché Dio non poteva fare un mondo dove una persona non aveva Bichlal il dolore. Non poteva fare che ti sicari a un dente senza che ti faccia male. Come mai ha fatto che se ti mangi tante caramelle, ti viene un buco al dente e ti fa male il dente. Non poteva fare che non avevi dolore al dente e da ogni cosa dobbiamo imparare come servirlo. Ogni piccolo dettaglio, perché non è fatto niente a caso, non è che mi fa male il dente perché mi si è cariato. A Kadosh Bokhu mi insegna che il male, che una caria viene del male, anche lì devo imparare. Oppure una persona si rompe una gamba. Perché a Kadosh Bokhu ha fatto che se una persona si rompe la gamba ha del male. Invece come ci insegnerà bene, il dolore è una delle misericordie più grandi che ha una persona. Il dolore è una della misericordie più grande che a Kadosh Bokhu ha fatto con noi. Perché? Uno dice, ma il dolore, vuoi dirmi che il dolore è buono? Ma il dolore, non parliamo solo che quando una persona inizia a fare la pulizia del corpo, vuol dire che inizia a digiunare o mangiare pulito, gli viene mal di testa e tutti pensano, ah, mi viene mal di testa perché è negativo. Sai quando digiuni a Kippur o quando digiuni durante Shobavim o quando digiuni durante l'anno ti viene mal di testa. Chi viene mal di testa deve sapere che sono i veleni che escono dal corpo e iniziano a girare nel sangue e ci sono dei veleni, visto che il corpo non gli hai dato da lavorare, allora inizia a eliminare i veleni che hai nel corpo. Ci sono dei veleni che passano per le vene del sangue e non si sciolgono a tal punto che riescono a passare fluidi e quindi ci sono delle vene nel cervello e negli occhi che sono così piccoli che quando passano il sangue che ha all'interno questi veleni, questi grassi, veleni, ti viene mal di testa. Così ci dice il Ramasharov che fa tutta la zunah, cioè tutto il mangiare sano. Allora il punto che quando hai mal di testa vuol dire che la pulizia del corpo che stai facendo sta funzionando. Stessa cosa a Kippur. Quando uno digiuna, che pitoma mal di testa deve sapere che il corpo si sta pulendo. Inserde? Ovviamente bisogna stare attenti perché se fai la pulizia tutto ad un colpo e ti viene mal di testa può creare dei problemi più gravi, però non è di quello che vogliamo parlare adesso. Però stiamo dicendo che il dolore, in generale anche il dolore, se una persona si rompe la gamba e gli fa male il dente, è una delle misericordie più grandi. A Kadosh Baru cosa fa? Quando ti fa vedere il dolore, come mai lo fa? Perché ti fa vedere quello che devi aggiustare. Se tu non avessi il dolore, non sai che devi mettere a posto la gamba. Se non ti fa male il dente, non sai che devi andare a fare una carie. N'acqua? Il dolore è una delle misericordie più grandi che a Kadosh Baru ha con noi. N'acqua? Le malattie che si diffondono senza far male sono tra le più pericolose. Quando inizia a far male ormai è tardi. Ti dicono, ah ma ormai ha preso tutto il corpo. Ma come? Non l'ho neanche sentita. Quando non ti fa male può essere la malattia più grave. Vediamo. Invece quando appena hai male ai denti, hai male ai denti, devi andare dal dentista. Poi se non vuoi perdere la giornata di lavoro oppure hai degli appuntamenti, oppure ci sono quelli che si arrabbiano con la Kadosh Baru e dicono ma perché mi hai fatto venire mal di denti? Ma volevo rimanere senza mal di denti proprio in questo momento. Mettono un po' di arac sul dente, almeno vanno avanti ancora un'altra giornata, due giorni. Ma cosa succede dopo? Cosa succede? Che invece di fare una piccola carie, bastava, avevi un po' di dolore, andavi dal dentista, toglievi un po' di carie e avevi finito. La curi e te ne vai a casa. Se una persona invece non ascolta il dolore, cosa succede? Come si dice? Ti ritrovi che poi devi fare la devitalizzazione o togliere proprio il dente. E' meglio ascoltare prima. Il papà di un mio amico, Rafael Zaddik, poi alla fine è mancato. Il papà di un mio amico ha fatto una volta un incidente in macchina. Lui religioso, mamma Zaddik, e il padre ha fatto un incidente in macchina e come si dice, si è rotta la macchina. Il padre non era religioso, quindi continuava a dire ma vedi tu che credi in Dio, guarda cosa mi ha fatto Dio, mi ha fatto rompere la macchina, adesso come faccio a lavorare? Ho due giorni che non posso andare a lavorare finché mi danno la macchina. E lui diceva papà ma guarda tutto per il bene succede, che bene c'è in una roba del genere? Guarda, sono qua in ospedale e mi devono fare tutti gli esami. Gli ha detto sì però papà ma un Hashem sei vivo. grazie a Dio puoi camminare. La macchina non è neanche colpa tua quindi ti ripagano una macchina nuova del tutto, ti ripagano i giorni che non vai a lavorare. Ma vai arrivino in ospedale, ti fanno anche le cure a gratis. Cosa vuoi di più? E lui ha detto no, no, il papà era tutto imbronciato perché diceva mamma ho fatto in sala operatore per togliere una crescita che aveva nel cervello che se non avesse fatto l'incidente non avrebbero mai saputo che era lì perché non faceva male e biskut grazie all'incidente Baruch Hashem gli hanno tolto questa cosa qua nel cervello Baruch Hashem e da lì ha iniziato a curarsi grazie a Dio vediamo che anche una persona se gli parli prima dell'incidente ti dice mamma come si dice succede tutto per il male come si dice invece dal momento in cui poi ha fatto l'esame pitomop ah col besed Baruch Hashem vedi che ha fatto per il mio bene vedi che ha salvato da un'altra malattia mi ha salvato da un'altra malattia al padre anche che non ne voleva sapere il giorno dopo come si dice si è ribaltato come una frittata quindi a rivederlo da fuori come dicevamo con il mio amico l'incidente è stato un regalo o no il dolore che ha avuto è stato buono o no il dolore che aveva intendo dire per la macchina o è stato buono o no è tutto per il bene era totalmente per il bene questo questo dobbiamo veramente marchiarcelo nel cervello Akadosh Baruch Hu fa tutto 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 per il bene tutto per il bene anche se adesso non ho gli occhiali per vedere che è tutto per il bene ho gli occhiali ognuno sai hai delle lenti se tu metti la lente verde o la lente viola vedi viola metti la lente azzurra vedi azzurro noi dobbiamo mettere delle lenti degli occhiali non sono gli occhiali così ma dobbiamo mettere degli occhiali sono le lenti di rabbinachman dobbiamo mettere le lenti di rabbinachman che ci fanno vedere che Akadosh Baruch Hu fa tutto per il bene non abbiamo il cervello per capirlo perché chi siamo noi per capirlo c'è scritto Biduk nel ah oggi leggevo Kdushat Levim Rabi Levitschak mi bardiccio Bemishpatim dice non esiste un umano che ha il cervello il nostro cervello non ha neanche una minima possibilità di capire quello che fa Akadosh Baruch Hu e vogliamo cercare di capire quello che ci succede tutto non abbiamo neanche la concezione di capire due contrari come abbiamo detto diverse volte fuoco e acqua che stanno insieme non li capiamo come fa il fuoco a stare con l'acqua il c'è e non c'è che sta nello stesso posto non riusciamo a capirlo c'è scritto che lo capiremo soltanto quando arriverà il Mashiach vogliamo capire come mai Akadosh Baruch Hu fa certe cose come mai Dio ha fatto che dei bambini di 10 anni di 11 anni dicano del padre ma tu lo sai chi sono i bambini lo sai da dove arrivano lo sai chi è il padre hai già visto cosa succederà tra 60 anni avrai già visto chi sono i loro nipoti non hai visto cosa succede nel loro cervello nel loro cuore dopo quello che stanno passando magari faranno tornare a metà Israele ma hai idea di cosa succede no non hai idea non hai idea quindi l'unica cosa quando noi non riusciamo a vedere come mai succedono certe cose dobbiamo soltanto stare zitti e malasot l'ishtok infatti abbiamo visto oggi che il grande il grande merito di una persona che va a trovare delle persone che si siedono e stare zitto così è scritto non è venire lì e dire no silenzio ma dobbiamo 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 saperlo io dico anche a me stesso di continuo torniamo al passuk che ha detto Rabbi Nachman nella Torah numero 187 il rabbino dice vuol dire abbiamo detto tua oh signore è la misericordia il chesed poiché tu ricompensi ogni uomo secondo le sue azioni per far chuvà kadosh manda diverse cose su di noi manda diverse cose su ogni persona diverse difficoltà dobbiamo sapere che tutto è apparecchiato con una precisione precisione neanche chirurgica non so se dice microscopica ma neanche il millimetro è troppo lontano ma microscopio e tutto è fatto in una precisione così elevata tutto con lo scopo di fare del bene a ogni persona ognuno di noi mamash quindi quando una persona si ritrova in delle difficoltà se ha cervello possiamo dirlo deve ragionare sul perché si trova in quella situazione perché mi trovi mi trovo così perché mi è successo così e sicuramente mi dà che neghet mi dà abbiamo detto sicuramente Karushu Okumi sta pagando con la stessa moneta come mai arrivo e e una persona mi umilia sono ancora i risidui del corona come mai una persona mi umilia mi dice perché si vede che ho umiliato io qualcuno chi devi pensarci tu ognuno che si ferma a ragionare sono quelli che ti dicono ma io non lo so perché mi arrivano tutti a me sono quelli che fanno i piangini così piangistei non so come mai mi succede se ti fermi e lo pensi lo sai benissimo perché ti succede ti devi fermare e pensare come mai mi succede chi ha cervello lo fa chi non ha cervello va avanti quando magari poi trovi la cosa che ti ha portato questa cosa questa complicazione è tutto allora puoi puoi fare in tempo aggiustarla lo aggiusti in tempo e quindi puoi aggiustarlo in tempo prima che la carie diventi una devitalizzazione o un'estrazione del dente proprio come la carie è più facile da ripulire che la devitalizzazione allo stesso modo se ci mettiamo a posto i comportamenti appena riceviamo un piccolo dolore un piccolo casino un piccolo male appena se li mettiamo a posto subito come si dice non dobbiamo poi fare tanti appuntamenti dal dentista che ti prende le cose facciamo tutto più veloci come dicono a proposito del dentista è prevenire meglio che curare appena senti un dolore subito iniziamo a chiedere perché me l'hai mandato ok mi hai bloccato i soldi in questa cosa qua o cose che sentiamo in questi giorni è mancata una persona e i fratelli litigano per i soldi tutti i tzadikin kadishin e litighi per i soldi di una persona queste le luni le luni se vuoi fare ma io poi con i soldi ci faccio una yeshiva a parte che ne abbiamo sentito di tutti i colori per ora ancora non abbiamo visto yeshiva ne abbiamo sentito nella nostra comunità di persone che litigavano con i soldi ah ma io con i soldi poi apro la yeshiva o aiuto la yeshiva aiuto se ad oggi stiamo aspettando queste 40 yeshiva che aprono a Roma 30 a Milano e così via anche in Israele quindi se accoldimi o no sono tutte immaginazioni se due litigano vogliono far veramente qualcosa le luni shmat se vogliono fare qualcosa per innalzare l'anima di una persona che è vicino leva te il tuo fratello vuole più soldi prendi più soldi tutto tuo vuoi prenderli tu prendili tu questo innalza l'anima non litigare per avere mille euro diecimila euro in più sai che è all'anima in alto che dolori questo è quello che vogliamo fare no dobbiamo sapere che tutto quello che succede fa bidiuca al millimetro aggiustando le cose in questo mondo evitiamo casini o castighi in altri mondi perché ogni peccato che abbiamo commesso ovviamente poi dovremmo tenerne conto pagare il prezzo quindi se non mettiamo a posto i peccati in questo mondo che non vuol dire soltanto che prendi le mazzate perché hai rubato ma è la vergogna è la tua anima che arriva in cielo con la voglia di rubare o con questi istinti quindi il lavoro che dobbiamo fare finché siamo in questo mondo se ci succede qualcosa ragionare qual è il motivo per cui ci è successo quel qualcosa rafforzarci per migliorare quel qualcosa in modo che arriviamo in cielo non dobbiamo aggiustare le nostre cose in cielo lo aggiustiamo già qua senza tornare in rincarnazioni o sai che casino rincominciare di nuovo a imparare come si cammina come si parla come si mangia è un casino non vogliamo ritornare la battaglia con l'ego che ti dicono no sei bravo sei forte no no non aggiustiamo tutto prima come facciamo aggiustarlo prima di tutto accentando quello che ci succede come vuol dire che tutto viene ad eliminare i nostri peccati c'è un verso nella parashata Shavua che dice vuol dire che questo verso parla di una persona appunto che viene uccisa involontariamente dice che questa persona qua Dio ha ucciso questa persona tramite questa una persona che è innocente lo so ha fatto così col martello gli è volato indietro il martello e l'ha ucciso la Torah la Torah su questo passo qua commenta che in pratica non fa niente a caso così dice Rashi non rabbin ahmano che ci sono persone che magari non lo accettano qua stiamo parlando di Rashi che dice che non fa niente a caso e non a caso uno ha ucciso l'altro se uno è successo che in un incidente senza farla apposta la macchina ha volato ha ucciso un'altra persona non è successo per caso non è successo per caso sicuramente tutti e due hanno fatto qualcosa di non buono prima e a Kadosh Vauru ha fatto sì che succedesse che questo prendeva quello la Rodea la Kadosh Vauru l'ha fatto diuk al millimetro per sistemare tutti i vecchi conti o i conti che avevano aperti Rashi ci dice che quello che è successo è tutto preciso in qualsiasi cosa che succede dobbiamo cercare pregare di trovare quello che dobbiamo mettere a posto perché tutto succede biviuca la precisione se tu hai hai urtato una persona e non un altro è tutto al millimetro il Bala Turim non so se chi ce l'ha nel Khumash sotto di sotto abbiamo la Torah Unculus c'è Rashi qua sotto che è il commento che abbiamo detto e poi hai qua Bala Turim Bala Turim non tutti i libri ce l'hanno però in quasi tutti i libri però di Torah c'è il Bala Turim è chi ha scritto era il figlio del Rashash del Rosh oggi ho sentito era il figlio del Rosh il Rashash in pratica ha scritto i quattro pilastri del Shulchan Aruch vuol dire per dirvi la grandezza di questa persona il Rosh una volta non c'era il libro delle regole il primo che ha iniziato tutte le regole che noi abbiamo tutte le Alachot le regole che vengono dalla Torah orale arrivano dalla Gmarah dal Talmud allora cosa ha fatto il primo il padre stiamo parlando credo di 1300 anni fa non so non prendetemi preciso con l'anno forse di meno 1200 il padre del Bala Turim cosa si chiamava Rosh e in pratica lui cosa ha fatto ha preso tutto il Talmud dove parlavano di come si doveva fare l'alahah di come ci si doveva comportare in certe situazioni e l'ha messo di lato ok quindi in pratica perché per le persone che non erano abituate a studiare il Talmud prendevano soltanto il Rosh e almeno imparavano quello che dovevano fare ok ti insegnava le regole pratiche allora poi è arrivato e visto che comunque il Rosh ha preso soltanto i pezzi di Gmarah e c'erano persone che non capivano la Gmarah Rabbi Uda dice così quello dice così ma io poi alla fine cosa devo fare allora il Bala Turim cosa ha fatto ha messo quattro fondamenta che sono i quattro pilastri sul quale si basa tutto il Shulchan Aruch vuol dire il Shulchan Aruch vuol dire tavolo apparecchiato ed è libero con tutte le regole ok tutte le regole si basano da quello che ha scritto il Bala Turim una volta voleva fare un regalo al padre che credo compiva gli anni e in pratica cosa ha fatto in una notte si è messo e ha scritto il commento a tutta la Torah scusate a tutta la Torah ha scritto un commento e questo commento qua si chiama Bala Turim vediamo che bei regali faceva il figlio al padre che gli fa un regalo gli riempie tutto il suo la Torah di Hidushim vuol dire di innovazioni della Torah e ancora ad oggi viene studiato il Bala Turim per esempio poi come siamo arrivati al Shulchan Aruch mamma magari un altro giorno vediamo il Bala Turim per dirvi la grandezza del Bala Turim il Bala Turim prende la parola VL giusto che c'è scritto VL a Mishpatim vuol dire e quelli sono i Mishpatim vuol dire sono gli statuti però dalla parola VL vuol dire e questi il Bala Turim prende e dice in pratica che devi dividere che la parola rappresenta l'acronimo si dice acronimo non ricordo la brava mezzia si dice l'acronimo della parola VL fantastico con quello che abbiamo detto cosa vuol dire e un uomo un uomo deve un uomo deve l'accor indagare sul giudizio cosa vuol dire che ogni uomo deve indagare su ogni giudizio che gli succede ogni dimim che succedono su di te devi indagare questo è quello che dice il Bala Turim dice che ogni volta devi indagare su quello che ti succede ogni giudizio che cade su di te devi indagare il Bala Turim l'ha scritto non è stampo dobbiamo indagare su ogni cosa ogni storia questo non è non è una cosa che ha detto soltanto per i giudici che devono indagare su ogni giudizio è una cosa che succede per ogni persona anche noi che siamo le persone semplici anche per noi ogni cosa che succede dobbiamo indagare cosa dobbiamo indagare dobbiamo indagare controllare ben bene perché ci succede forse ho sbagliato con la Karush forse mi sono comportato male con qualcuno forse ho parlato male di qualcuno l'ho visto l'altra settimana non so se l'abbiamo detto però l'abbiamo visto in un libro c'è scritto che lo Tzaddik può aiutare a togliere tutti i peccati di una persona come dice Rabbenu abbiamo detto diverse volte che Rabbenu non ha paura dei peccati perché i peccati c'è scritto sono un fiume che toglie da tutti tutte le macchie sono un fiume che può togliere tutte le macchie l'unica cosa di cui ha paura Rabbenachman se possiamo dire che ha paura l'unica cosa di cui ha paura è del nostro vuol dire della nostra arresa vuol dire che Rabbenu abbia detto che la cosa che lui è una roba che non sopporta è che una persona si arrende anche una persona che dice ma io sono così cosa ci puoi fare vuol dire che si arrende Rabbenu non vuole che ci arrendiamo allora in ogni cosa dobbiamo sempre sempre controllare vedere come mai è successo così come mai è successo così facendo così cosa vuol dire indagando su quello che ci succede togliamo tutti i peccati perché puoi farci va ah mi è successo perché ho parlato male con questa persona allora vai da questa persona e dici guarda scusami che ho fatto così ascolta vi stavo dicendo che quello che dice che lo tzaddik può togliere tutti i peccati da una persona può aiutarlo a eliminare tutti i peccati tranne un peccato che è la shonara parla male lingua parli male di una persona lo tzaddik e non ha niente a che fare con queste cose non può neanche mettersi a pulirle le robe del genere ma ma bisogna stare attenti alla lingua di non parlare mai male di nessuno per arrivare a quello è mega difficile puoi studiare una marea di Allahot di non parlare ma la roba più importante è sapere che tu non sei nessuno chi sei tu per parlare ma ti puoi permettere di parlare di qualcuno mi atta Bichlal fino a ieri Bichlal non sai neanche cosa facevi fino a ieri cosa mangiavi cosa facevi come parlavi Arshava hai iniziato una minima a tornare e ti credi chissà chi abbassa la testa sono ragazzi che dicono ah ma i miei genitori non sono religiose se non era per tua madre fratello neanche eri ebreo sai che casino dovevi fare per venire al tempio Bichlal devi soltanto fare tutti i giorni soldato da Yavod una cena un pranzo per dire grazie a tua madre che ti ha fatto ebreo ma Arshava ma te puoi dire lei è religiosa non è religiosa chi sei ma la scorsa settimana il kibudorim il kibudorim non è una uno zhog ti pensa che sì kibudorim tutti i giorni devi chiamare mamma come stai tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni come stai mamma tutto bene ti dice fai schifo perché hai ragione mamma sono persone che vengono dicono no ma lei mi ha fatto così che mi ha fatto così e poi uno si lamenta se gli succedono robe negative anche quelle da guardare come mi sono comportato con i miei genitori cosa ho fatto sta attento con queste cose come mi comporto con le vedove come mi comporto con gli orfani come mi comporto con i gerim con chi ha fatto il ghiur oi va a voi abbiamo visto l'altra settimana oi va a voi ricordarlo fino a dieci generazioni gli italiani fa schifo uno che è fatta Marsha scritto nella Torah abbiamo visto l'altra settimana Rashi Rashi lo dice l'abbiamo visto insieme è fatta vuoi parlare male dei gerim chi sei tu ah ma questo ger ha fatto il ghiur con questo rav che non è così ma mi ha chi sei ma si è diventato il capo della rabbinu sai che che rav va bene chi non va bene non è il tuo lavoro ci sono rabbinini vanno e via ci sono rabbinini fidati che anche i rabbinini sanno più di quanto ne sei tu ma è normale davvero andiamo a parlare dei rabbinini allora non vale più niente quello che dicono i rabbinini anche se sono tre rabbinini che alla sera vanno in discoteca c'è scritto che il Kallosh Woku scende nel Bedin ogni Bedin vuol dire ogni posto dove fanno fanno i giudizi a Kallosh Woku scende in quel posto là a Kallosh Woku è sceso lì non è niente se quello c'ha la barba o non ha la barba se sua moglie va al mare o non va al mare dobbiamo cercare i tzadikin che ci fanno vedere la strada che vanno secondo la Torah noi giudicare una persona se è ebrea o non è ebrea per secondo che rabbino ha fatto la conversione bisogna stare molto molto attenti poi succedono le robe bisogna anche vedere su quello torniamo a quello che abbiamo detto prima quello che ha detto Rabbin Achman e quello che ha detto il Rashi quello che ci insegna la Torah quello che c'è scritto vuol dire che in pratica il Balaturim ha detto che dobbiamo controllare ben bene tutti i processi che ci arrivano su di noi e dobbiamo metterli a posto cosa vuol dire che se ti succede qualcosa devi renderti conto come mai mi è successa sta cosa qua sicuramente devo mettere a posto questo questo quello e in quel modo allora riesce a eliminare tutti i peccati dal tuo corpo e di riuscire a star meglio come si dice come quello che abbiamo detto l'altra settimana che abbiamo parlato perché abbiamo detto che facendo così in pratica indagando su tutto quello che ti succede togliamo i peccati di dosso e possiamo arrivare puliti in cielo e farciuva ed è come quello che abbiamo detto l'altra settimana sul canto abbiamo parlato l'altra settimana della shira di una persona che di continuo deve avere un manghina in testa deve avere dei nigunim deve avere delle melodie delle canzoni in testa delle canzoni per la kadosh ho letto una roba del Rav Berlan mamash che io mi sono innamorato che in pratica la cosa principale come abbiamo detto l'altra settimana è cantare cantare e melodie mamash la cosa principale che ognuno di noi deve sempre avere nel cervello un nigun mamash e il Rav dice appunto che nelle parole vele amishpatim che abbiamo detto e questi sono gli statuti ok che abbiamo detto che vuol dire che devi cercare tutte le cose che ti succedono in modo che puoi farciuva e prende che in pratica la parola vele amishpatim se togli la vav che si chiama vav khibur vuol dire vele vuol dire e quelli e questi sono gli statuti togliendo la parola e quindi la vav viene la gematra di 515 l amishpatim vuol dire quelli sono i mishpatim fa la parola fa il numero 515 che ha il valore numerico esattamente della parola shira shira vuol dire canto 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 quindi vuol dire che tutti i mishpatim tutti gli statuti tutti i processi che ci sono su una persona si addolciscono grazie alle canzoni ai balli e alla felicità il bal shemto lo ha detto per prima è il primo che ha portato questo chidush nel mondo rabbinachman ha continuato il chidush vuol dire il rinnovamento l'ha continuato nel mondo ha continuato questo concetto e ha detto in una Torah che mamash grazie ai balli puoi addolcire tutto una persona che balla e batte le mani può addolcire tutto può addolcire tutto mamash dobbiamo averlo nella testa c'è una canzone famosa che dice rabbinachman dice che hai vietato arrendersi e poi dice vuol dire se arriva un momento difficile c'è solo da essere felici è tutto il contrario di tutto ogni volta che ti arriva un momento difficile inizia a ballare è il contrario mamash il contrario non è quando fai le cose uno dice io ho fede vado al tempio la vera verità la vera è quando le cose non vanno come credi tu rimani con la emunà rimango con la fede non mi sposto di un millimetro vanno bene le cose non vanno bene le cose è tutto se riesco a camminare vuol dire che è Dio se non riesco a camminare anche Dio ti mando i cuoricini lo stesso non ce l'ho là c'è scritto nella parashat shavua anche un altro chidush del rab c'è scritto nella parashat shavua nepo l'ho visto nella parashat shavua c'è scritto che ami il popolo ebraico ha detto naseve nishmah cosa vuol dire naseve nishmah vuol dire facciamo e poi ascoltiamo prima facciamo e poi ascoltiamo in baia hanno accettato cosa vuol dire dicendo così hanno accettato su di loro la Torah senza prima dire ascoltiamo sentiamo cosa c'è dentro poi lo facciamo abbiamo detto naseve nishmah Zaraf dice come mai naseve nishmah queste parole qua sono state dette proprio nella parashat a mishpatim Moshe Rabbenu ha messo ovviamente ha detto di mettere così però perché ha messo naseve nishmah che il popolo ha detto facciamo e poi ascoltiamo proprio nella parashat di mishpatim e non nella parashat di tro la parashat dell'altra settimana vuol dire il porzione di Torah dell'altra settimana parla proprio di tro come abbiamo visto che parla che abbiamo ricevuto i dieci comandamenti come mai chiederà come mai non è stata ricordata naseve nishmah in quella parashat ed è stato ricordato in questa parashat che è piena di casini che chi fa così deve morire chi fa quello la sua pena andare di là c'è scritto come si dice nella parashat che una persona che colpisce il suo amico per uccidere allora poi anche lui deve morire a me calela vive c'è scritto nella parashat vuol dire chi dice delle parolacce al padre o la madre anche deve morire nella Torah c'è scritto che me calela soltanto chi parla male fai te chi picchia sentite in questo periodo sono persone che come si dice litigano con il marito della madre il marito della madre devi far cavot come tuo padre ma è il cavot di tua madre che ti comporti bene con lui non è col marito di tua madre allora lo puoi pestare è mizvah non esiste una mizvah devi vendicare il tuo padre non c'è una mizvah così non devi vendicare nessuno è scritto una parashat addirittura c'è una gmarà che io quando l'ho studiata mi ricordo sono rimasto male perché addirittura la gmarà chiede se una persona fai te le domande della gmarà dice ok fai finta che ci sono delle mizvot quando c'era il metamignash che una persona se aveva fatto un lav vuol dire aveva fatto una mizvah che non non aveva rispettato una mizvah che non si deve fare cosa succedeva prendeva 39 botte ok al tempo del betamignash non è una cosa che si fa oggi allora chiede la gmarà cosa succede se la persona che viene a il suo lavoro è pestare la gente ogni giorno fa il giro gli danno 4-5 indirizzi guarda devi prendere questo qua degli 20 20 macotte a quell'altro 15 a quello 39 arciano cosa succede se il lavoro di questo qui arriva e deve arrivare entra in casa bussa in casa chi è la persona che le prende le mazzate suo padre oi va a voi oi va a voi a him si può la persona il boia chiamiamolo può pestare il padre secondo quello che dice dice la Torah perché è una mizwa della Torah di Dario ma il suo tikkun lo sta aggiustando oppure no allora la gmarà porta un altro caso dice ascolta se una persona ha del sangue nella 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 ma ha una spina scusa nella mano se glielo può togliere il figlio io ho chiesto mamma cosa vuol dire se tuo padre ha una spina nella mano è ovvio che glielo puoi togliere tu e la gmarà dice no è meglio che lo faccia qualcun altro perché perché se tu adesso gli stai togliendo una spina gli schiacci il dito e può essere che esce fuori una goccia di sangue e c'è scritto nella Torah che far uscire una goccia di sangue da tuo padre meriti la morte questo è quello che dice la Torah oi va a voi allora dicono che è meglio che lo faccia qualcuno però se è per refua per la guarigione allora se non c'è nessuno che lo può fare glielo puoi fare anche tu così alla fine arriva la conclusione la gmarà tutto questo da questa parasha o da anche del cavo non solo da questa chi vuol sapere se quello è il boia che tira le mazzate se può farlo a suo padre o non deve farlo a suo padre che vada a vedere la gmarà non mi ricordo che pagina è chi vuole io lo dico no scherzo chi vuole chi vuole è facile però la gmarà alla fine ha tutta una discussione ovviamente se c'è un'altra persona che lo può fare che lo faccia un altro si cerca di fare in tutti i modi in modo che questo boia non sia lui quello che dia le mazzate al padre se non c'è nessuno nel caso che non c'è nessuno e non è un caso che è mai successo ma è una supposizione per insegnare la regola il cavo della Torah è ancora più alto del cavo dei genitori quindi mamash bisogna e anche su questa cosa ci sono delle parentesi che bisogna stare molto attenti perché a volte crediamo che il cavo l'onore della Torah crediamo di fare una mitzvah facendo cavo della Torah però calpestiamo i nostri genitori mamash anche lì non va bene comunque torniamo alla domanda che abbiamo fatto che fa Rav abbiamo detto come mai la parola vuol dire faremo e ascolteremo è scritto nella parasha di Mishpatim e non è scritto nella parasha di Itro era più comodo era più non comodo era più mattim vuol dire che ci stava meglio se l'avessimo detto durante la parasha di Itro dove si dice si racconta che abbiamo ricevuto i dieci comandamenti perché proprio qua adesso in questa parasha abbiamo detto che c'è scritto che se una persona pesta una persona motiumat se una persona meccallel vuol dire che parla male al padre o alla madre motiumat anche qua ma che vive in modo vuol dire chi picchia al padre o alla madre motiumat vuol dire che deve morire merita la morte vuol dire una persona che testimona fa farsa la testimonianza per uccidere un'altra persona anche in quel caso merita la morte ci sono diversi casi in questa parasha che si parla di cosa succedono a delle persone che fanno cose gravi dopo che urliamo dopo che Moshe Rabbele ci ha urlato contro tutti questi 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 casi in cui delle persone muoiono come si dice tutti questi casi in cui ti dice Moshe Rabbele che morirai se fai questo peccato muori se fai questo muori non vivrai di più non vivrai di più una persona sente tutte queste tutte queste maledizioni chiamiamole degli atom abbiamo detto dell'orfano della vedova che non puoi non puoi come si dice che non puoi trattarli male non puoi c'è scritto vi ucciderò tutti se vi occupate fate male così dopo che hai sentito tutte queste cose qua tutti questi divieti e tutti questi dichiarazioni di morte solo adesso mi dici facciamo e poi ascoltiamo come mai ce lo mette qua perché ti vuole incendiare dopo i casini ti dico che ascolta e faccio io non ti dico che la Torah non ci viene a dire che dopo che hanno sentito sai come c'è scritto nella settimana scorsa che hanno sentito i fulmini hanno visto la montagna infuocata mamash hanno sentito la voce le persone morivano e ritornavano in vita sono stati sbattuti fuori e allontanati dalla montagna non so quanti chilometri mamash ah quando sei beorot vuol dire che quando vedi che sei tutto esce che vuoi avvicinarti a lui allora è facile dire faccio e poi ascolto faccio tutto quello che c'è da fare poi ascolterò quali sono le cose ci ha insegnato che no a misre l'ha detto facciamo e poi ascoltiamo l'ha detto dopo che ci hai dichiarato che se fai questo non fai questo fai questo muori quello muore ah questa è la Torah che ci puoi dare noi lo facciamo e poi ascoltiamo vuol dire una cosa fondamentale che dobbiamo sapere di continuo che di continuo dobbiamo sapere quello che passerà a noi e baruch Hashem adesso stiamo tutti bene baruch Hashem per tutti noi vogliamo sapere che dobbiamo trovare in ogni situazione sapere che Karush Bokhu ci vuole un bene dell'anima ma e fa tutto per il bene e dobbiamo dire facciamo e poi ascoltiamo in qualsiasi caso quindi non succede non c'è nessuna cosa che ti dice no non lo puoi fare cioè non c'è nessun caso che dici no allora adesso non credo più anche nei casi peggiori abbiamo visto noi avevamo al tempio sono mancati l'anno scorso in tre persone che erano nella Shoah e Mommash Rabiuda persone che come si dice uno di loro non ha mai parlato erano i son del commando sono quelli che mettevano quelli che sono scappati perché l'unica 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 persone che sono rimaste vive sono quelli che sono scappati nell'ultima come si chiama perché ogni tot di mesi li uccidevano erano quelli che mettevano i corpi nel mangiavano un po' meglio e tutto però mettevano i corpi dentro dentro i forni ad Auschwitz e lui due o tre volte ha raccontato delle storie che le poche volte che ha parlato tutti loro ogni volta che venivano i bambini ogni volta io li vedevo ogni volta portavo i bambini che prendessero delle brachotte dicevo puoi fargli una benedizione un altro a Viuda non hai idea lui ogni volta gli dava fastidio il masgan l'aria condizionata fai te aveva 90 anni gli dava fastidio l'aria condizionata perché dal freddo che ha preso ad Auschwitz non riesce a sentire neanche un venticello di freddo sta male ha detto che gli facevano alzare delle cose di ferro e loro erano così mal vestiti che gli si attaccava il ferro alle mani fai te e quando lo dovevano appoggiare gli si staccavano dei pezzi di pelle delle cose allucinanti ogni volta che li vedevo venivano al tempio tutti i giorni non ha mai perso da faiomi alla mattina ogni volta che li vedevo correvo con i bambini fagli una brachà fagli una benedizione fagli una benedizione ogni volta i bambini li portano sempre perché l'ama ogni volta tutti i rabbanim dicono che chi è stato in quei posti lì è ancora Bauch Hashem sia che ha fede che non ha fede bisogna correre a chiedere per favore fammi una brachà fammi una brachà perché ci manda in un mondo che è pieno di disgrazie casini e cose da passare se riesci a superare quei casini e rimanere comunque attaccato alla emunà alla fede vai 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 sei uno tzadik secoli lavoro con noi mamash al millimetro come abbiamo detto che ha detto il balaturim ti vedo come si dice guarda ogni dinim n'acron? Rabbi Nachman dice una cosa bellissima qua che dice a proposito del fatto che bisogna guardare quello che ti succede che ha cazzo fa n'acron? dice che il posto più facile dove vedere vuol dire il posto dove è più duro non più duro però si comporta vuol dire ti ripaga con la stessa moneta e Erez Israele chi vuole vederlo se lo vede nella Torah che ti porta anche le fonti n'acron? dice che mamash in Erez Israele allora abbiamo detto che c'è scritto di Israele c'è scritto della terra di Israele c'è scritto Erez o Chelet Yoshvea vuol dire una terra che mangia le persone che risiedono in lei ok? e la Rashete Vot vuol dire le iniziali della parola Ochelet ok? come si dice la parola Ochelet vuol dire una terra che mangia Ochelet le persone che ci risiedono dentro la parola Ochelet dice Rabbi Nachman è il notrecon vuol dire l'acronimo delle parole vuol dire che tu ripagherai ogni persona secondo quello che fa e dicono che proprio il Rabbin dice che proprio in Israele la senti questa cosa ancora di più per quello che per molte persone che vengono a vivere in Israele è molto difficile è difficile la vita è difficile questo perché il Rabbin te lo dice Ochelet vuol dire che ci ripaga in Israele al millimetro secondo come ci comportiamo dice per quello che chi vive in Israele chi risiede in Erez Israele in Erez Israele voglio dire nella terra di Israele hanno la maggior parte di loro ha i casini così dice Rabbeno per chi non ci crede ma ma c'è scritto qua dice la maggior parte di loro ha i surim vuol dire la maggior parte di loro ha dei problemi cioè delle cose che non gli sono facili perché perché fanno veloce dal cielo a ripagare in Israele con la stessa moneta perché in modo che puoi far ciù come abbiamo detto prima perché vogliono che fai ciù in Israele prima perché sei nella casa del re sei nella casa del re abbiamo detto diverse volte che c'è differenza una persona che se il re vive a a a a a palazzo chi abita nelle periferie del palazzo può comportarsi meno bene di una persona che si che abita all'interno del palazzo e chi abita vicino al re o chi più uno è vicino al re più deve stare attento a come si comporta perché basta che fa qualcosa che non va bene mentre il re parla può fare un ridere il re può tagliare la testa giusto allo stesso modo però nello stesso modo se invece un contadino che abita 50 chilometri lontano dal palazzo del re mentre il re parla si mette a ridere il re non gliene frega niente più sei vicino alla casa del re più resta attento a come ti comporti al millimetro quello che dice rabbinachman perché in israeli ci pagano di più mi da che ne mi da vuol dire una moneta con la stessa moneta perché sei più vicino alla casa del re stanno più attento a darti le mazzate però come abbiamo detto fino adesso che le mazzate sono per il tuo bene quindi perché vogliono farti tornare a lui perché vogliono che in israeli siamo nella casa del re tutti tornano a dacadosh bachou bachou scusate che ho saltato anche l'altra settimana ma è stato un periodo un po' così tra corona ho avuto il corona ho finito ho finito domani bachou bachou oggi ho fatto anche il test che non ho niente tutti bene bachou 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 sono stati un po' di casini a bachou bachou speriamo se Dio vuole della prossima settimana di tornare a fare le cose in tempo qualcuno ha qualche domanda chiudo il come si chiude ah si può bachou 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 bachou